Oltre mille bambini, una palla ovale è il Fano Rugby che promuove i valori di questo sport. Questi gli ingredienti fondamentali per portare il 15 e il 16 maggio a Fano i campionati nazionali di rugby delle scuole del centro Italia. Abbiamo strappato questa manifestazione ad altre città altrettanto blasonate, però hanno scelto Fano in quanto è una realtà emergente del rugby nazionale. e quindi li avremo già dal venerdì sera che pernotteranno qui con noi. Faremo un momento di festa al Lido dove ci saranno momenti di gioco e sarà possibile anche per i bambini che non conoscono il rugby di poter giocare insieme agli animatori della federazione, insieme anche alla Polfer e al Fano Rugby. Ci sarà un momento di festa, presenteremo tutte le squadre che partecipano a questo torneo, torneo che porta bambini dalla campagna alla Puglia fino alla Toscana. Quindi abbiamo una buona fetta d'Italia e li avremo qua per fare questa festa e per giocare, anche se nel rugby il risultato non è importante, ma l'importante è divertirsi e giocare tutti insieme. L'iniziativa che vede coinvolti 1.300 bambini tra gli 8 e i 13 anni è la festa conclusiva del progetto Scuola. Questo è promosso e sponsorizzato dalla Federazione Italiana Rugby e si rivolge a tutti quei ragazzi che non hanno mai giocato a questo sport, ma che in ambito scolastico hanno appreso le nozioni base per muovere i primi passi con la palla ovale, confrontandosi inizialmente con le scuole vicine e partecipando infine a questi campionati nazionali. Gran parte, quasi totalmente, verrà ospitata sulla zona trave, quindi tutti gli spazi ritenuti idoni alla trave, quindi lo spazio del baseball, la pista atletica e i due campi da calcio dei vicini, ospiteranno la maggior parte dei campi e sarà previsto un campo satellite per le categorie più grandi a Sant'Orso. Soddisfatta dell'evento l'assessore allo sport del comune di Fano, Caterina Delbianco. L'invito che faccio è di partecipare a tutta la città a questo evento perché quindi si può assistere, le scuole possono anche organizzarsi, poi lo comunicheremo con delle squadre e ci saranno dei momenti di festa, perché il rugby è festa, il venerdì alla zona del Lido.